buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale youtube per chi non mi conosce io mi chiamo elisa sono sarta e condivido con voi tutto quello che so del cucito sul mio canale youtube vi lascio il link qui sotto trovate inoltre un video nel quale racconto la mia storia come sono diventata sarta cosa faccio cosa voglio fare per voi ma torniamo al video tutorial di oggi nelle puntate precedenti abbiamo visto come creare il cartamodello su misura della gonna tubino base in un altro video nel video di settimana scorsa abbiamo poi visto come iniziare a confezionare la gonna rivedendo la cucitura delle pens la chiusura dei fianchi l'applicazione della cerniera invisibile e come preparare e cucire lo spacco sormontato con gli angoli nella seconda ed ultima parte del video che è quella che vedrete oggi terminiamo la gonna vi farò vedere come tagliare la fodera come prepararla e modificare il cartamodello anche per la fodera perché la fodera non va tagliata come abbiamo tagliato il tessuto esterno ci sono alcuni dettagli ai quali prestare attenzione per far sì che si evitano quei difetti che troviamo di solito nelle gonne foderate quindi vedremo alcuni piccoli trucchetti di confezione della fodera e termineremo con l'applicazione del cinturino cominciamo ho stirato la fodera l'ho piegata con il dritto all'interno e ho appoggiato il cartamodello del davanti sulla ripiegatura dalla stoffa la prima cosa che faccio è quella di andare a girare i 4 centimetri di fondo del margine di cucitura perché il fondo della fodera andrà tagliata al netto del margine di cucitura il cartamodello ha già i margini di cucitura nel punto vita vado a segnare esattamente come abbiamo fatto con la gonna lo stesso margine vado poi a riportarmi i segni delle pens è sufficiente segnare solo la parte alta della pens perché nel caso della sua della fodera non è necessario cucire come in esterno la pens ma è sufficiente fare una piegatina nella parte alta che vedremo poi dopo a parte la realizzazione dei capi con tessuti elastici e quindi che richiedono una fodera elastica in maglina per quanto riguarda tutti i tessuti fermi abbiamo una piccola modifica da portare perché la fodera è un tessuto che tende a strappare ma mai a lasciarsi andare quindi in questo caso nella gonna oltre al margine di cucitura che noi abbiamo andiamo ad aggiungere su tutto il fianco una ulteriore margine di mezzo centimetro questo farà sì che la fodera abbia un pochino di movimento ed eviti di tirare sulle larghezze è una modifica che viene fatta su tutti i capi se voi realizzate un pantalone dovete andare ad aggiungere mezzo centimetro di fianco difficile pantalone foderato ma può capitare di margine se realizzato un cappotto dovete andare ad aggiungere mezzo centimetro sul fianco del cappotto oppure sulla manica del cappotto sto parlando della fodera quindi in tutte le larghezze con i tessuti fermi dobbiamo aggiungere mezzo centimetro in più di margine il carta modello del dietro richiede qualche modifica in più ma fondamentale la linea della vita verrà tracciata esattamente come da carta modello anche in questo caso sul fianco bisogna aggiungere mezzo centimetro in più di margine di cucitura e girare verso l'interno i 4 centimetri di margini del fondo che con la fodera non servono nel centro dietro non calcoliamo lo spacco ma semplicemente prolunghiamo la linea del centro dietro la linea del centro dietro verrà allungata di un centimetro e mezzo mentre quella del fianco verrà lasciata esattamente tale quale otterremo così come potete vedere una linea di fondo diagonale non sarà più dritta durante il video vi spiegherò il perché ecco una cosa che non ho precisato per quanto riguarda il mezzo centimetro aggiunto sui fianchi ci siamo spostati di mezzo centimetro o abbiamo aggiunto al margine di cucitura mezzo centimetro ma quando sarà il momento di cucire attenzione non dobbiamo cucire mantenendo un margine di un centimetro a mezzo dobbiamo comunque cucire mantenendo il margine di un centimetro cosicché la nostra gonna in fodera rispetto alla gonna della parte esterna sarà leggermente più larga taglio la fodera passo la taglia cuci nel centro dietro e nei fianchi sia del davanti che del dietro nei fianchi volendo si potrebbe prima fare la cucitura che unisce il dietro e davanti e poi passare la taglia cucicchiusa ma a me piace la cucitura aperta quindi ho preferito farla prima appoggio le parti del dietro sulla parte del davanti dritto contro dritto metto gli spilli e faccio la cucitura a un centimetro nel centro dietro dritto contro dritto andremo a chiudere solo dalla fine dell'apertura della cerniera lampo all'inizio dell'apertura dello spacco non preoccupatevi se non avete i segni vi basterà andare a appoggiare la fodera sulla gonna e andare a segnare dove finisce la cerniera lampo il punto di fine apertura e dove inizia il punto di apertura dello spacco fatto questo andiamo ad unire le parti le puntiamo e andiamo a fare la nostra cucitura a un centimetro tiriamo bene tutte le cuciture aperte anche nel centro dietro tiriamo sia la parte che abbiamo cucito e sia in margine di cucitura che non abbiamo cucito dopodiché prima che la fodera inizia a sfilacciare completamente facciamo l'orlo al nostro fondo quindi andremo semplicemente a girare un centimetro più un centimetro e a fare tutta la nostra cucitura ecco qua si potrebbe anche cucire la fodera insieme all'orlo della gonna stessa e andare ad insaccarla così viene detto ma la fodera libera permette più movimento e quindi io la preferisco così siamo arrivati all'assemblaggio prendo la mia gonna al rovescio e la vado a inserire all'interno della fodera che è al dritto quindi gonne fodera saranno rovescio contro rovescio e inizio sistemarla bene lavoriamo sul punto vita prendo dove abbiamo la nostra cerniera lampo la giro come dovrebbe essere finita la fodera mantengo il margine girato verso l'interno lo vado appoggiare sulla cerniera e vado a mettere uno spillo stessa cosa ovviamente dall'altro lato dopodiché facciamo combaciare la margine la cucitura del fianco della gonna con la cucitura del fianco della fodera e andiamo a mettere due spilli sia da un lato che dall'altro infine in prossimità delle pens dove abbiamo fatto i nostri segni andiamo a creare una piccola pieghettina di modo che il tutta la circonferenza dalla gonna vada perfettamente combaciare la puntiamo così tutta facciamo adesso una cucitura a mezzo centimetro che servirà solo per bloccare la fodera la gonna nel punto vita io per evitare i convenienti dopo aver realizzato la cucitura sono andata anche a dare una passata a taglia cuci nonostante questa parte rimarrà nascosta dal cinturino chiaro che premetto che anzi il cinturino si può applicare alla fodera la gonna in maniere diverse io ho scelto di proporvi questa perché è quella che a me personalmente piace di più andiamo ora a parlare proprio del cinturino ho deciso di realizzare un cinturino alto tre centimetri e mezzo quindi sono andata a tagliare una striscia di tessuto alta 9 centimetri tre centimetri e mezzo tre centimetri e mezzo e un centimetro sopra e sotto per il margine di cucitura un lato della striscia sono andata a ripiegare il margine di un centimetro verso l'interno e l'intera striscia è stata adesivata la lunghezza della striscia sarà pari alla circonferenza vita della gonna più due centimetri due centimetri due centimetri e mezzo per il sormonto per l'applicazione del bottone ricordatevi che anche ai margini del cinturino dobbiamo aggiungere il margine di cucitura quindi da un lato quando andrete a puntare al cinturino dritto contro dritto come in questo modo con la parte ripiegata verso il basso avremo dal lato destro i due centimetri più il centimetro di margine cucitura che avanzano mentre dal lato sinistro abbiamo in avanzo un centimetro che ci servirà per andare poi a chiudere questo lato dalla cintura l'angolo del cinturino si potrebbe anche chiudere prima ma lo faccio così per rendervi le cose un pochino più semplici quindi facciamo una cucitura un centimetro che parte dalla fine della cerniera quindi dal margine di cucitura di un centimetro tutto attorno e arriva fino alla cerniera dall'altro lato quindi non fino in fondo ma fino a qua dopo averlo cucito vado a chiudere la cerniera controllo bene che le due parti superiori le pieghe superiori combacino perfettamente e se è così posso andare a chiudere gli angoli dal lato dove abbiamo il centimetro d'avanzo vado a mettere uno spillo esattamente sulla piega poi con la gonna al dritto vado a rovesciare l'angolo lungo la piega così e vado a realizzare una cucitura a centimetro quindi che parte da qui e arriva fino in fondo mantenendo questo margine piegato rovesciamo l'angolo e sistemiamo bene 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 tutte le parti andiamo sistemare bene il nostro angolino lo facciamo uscire bene e facciamo modo anche qua sotto di sistemare tutto alla perfezione dall'altro lato facciamo esattamente la stessa cosa ma mantenendo i margini aperti mettiamo lo spillo al centro della piega teniamo aperto il margine ruotiamo le nostre due parti verso il rovescio e andiamo a fare una cucitura lungo la parte laterale a un centimetro ma abbiamo lasciato i margini aperti perché la nostra cucitura proseguirà fino ad arrivare a incontrare la cucitura precedente del fondo quindi iniziamo a cucire quando arriviamo all'angolo manteniamo giù l'ago alziamo il piedino ruotiamo il tessuto e proseguiamo la cucitura fino ad incontrare l'altra lo rovesciamo bene al dritto sistemiamo bene bene tutti gli angolini lo appiattiamo bene andiamo a togliere eventualmente un pochino di margine all'interno del tessuto e una volta fatto il risultato sarà questo prepariamo il margine o stiliamolo ancora meglio verso l'alto verso l'interno del cinturino e iniziamo ad appoggiare la parte rovescia del cinturino sopra la fodera lo puntiamo tutto per bene se avete preparato correttamente il cinturino dovreste riuscire a coprire giusto 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 la cucitura che abbiamo sulla fodera ora abbiamo due possibilità o mettere tutti gli spilli per puntare il cinturino la parte rovescia del cinturino assicurandovi che il bordo del cinturino vada a coprire di un paio di millimetri la cucitura e andiamo così alla macchina da cucire andiamo a realizzare la nostra cucitura dal dritto all'interno del solco oppure un'altra opzione che è quella che ho scelto io è di cucire con dei punti a mano invisibili per rendere questo capo proprio sartoriale in questo caso dobbiamo fare un punto all'interno della piega della cintura e un punto nella parte sotto entro da un lato ed esco un pochino più avanti nello stesso punto dove sono uscita nella piega della cintura entro con lo spillo esco un pochettino più avanti e così vado a chiudere tutta quanta la mia cintura terminiamo il centro dietro dalla gonna dove abbiamo una modifica importante alla fodera da fare fate attenzione a questi passaggi perché sono molto molto importanti l'apertura della fodera andrà fatta combaciare con la fine cucitura del centro dietro li mettiamo uno spillo vi renderete conto che per farlo dovete alzare la fodera portare la fodera verso l'alto di un centimetro e mezzo questo è quel famoso centimetro e mezzo che abbiamo aggiunto al cartamodello nella lunghezza del centro dietro perché serve perché dobbiamo dare un pochino di molle nella parte in questo punto qua dalla gonna che serve per quanto ci sediamo se questo punto fosse completamente dritto e completamente combaciante gonna e fodera rischiamo che quando ci sediamo la fodera si strappi ecco perché il centimetro e mezzo ed ecco perché questo molle in questo punto questo margine andrà cucito su questo margine dello spacco quindi mettiamo uno spillo l'altro lato vi renderete conto da sole che questo margine va attaccato a questo margine quindi abbiamo della fodera di troppo dobbiamo togliere quindi un pezzo di fodera allora con le dita non vi sarà difficile andare a sentire segnare il margine dello spacco sopra quindi non questo rifinito ma questo qua sopra quindi lo tocchiamo lo sentiamo con le dita e andiamo praticamente a segnarlo perché la fodera da questo lato deve attaccarsi al margine sotto dopo aver segnato questa linea chiaramente dobbiamo aggiungere un margine di cucitura quindi ridisegniamo la linea su sotto sotto a un centimetro di margine di cucitura ho disegnato questa lineettina rossa e poi capirete perché e quando abbiamo controllato un milione di volte di aver fatto la cosa giusta allora possiamo tagliare lungo la lineetta rossa diagonale andiamo a fare un piccolo taglietto non arrivate fino in fondo cominciate ad arrivare due tre millimetri prima poi se necessario andrete ad allungarla avrete capito che questo serve per permetterci di girare il margine di cucitura verso l'interno quello che facciamo ora è proprio quello di girare sia qua che anche sul lato il margine di cucitura cercando di sistemare meglio possibile ma proprio bene bene la parte dove abbiamo l'angolo vedete tutta questa parte puntata la dobbiamo cucire a mano utilizzando gli stessi punti invisibili che abbiamo utilizzato per il cinturino dopodiché allo stesso modo con gli stessi punti poi chiudiamo attacchiamo la fodera alla cerniera lampo così le nostre nonne cucivano o rifinivano comunque i capi che confezionavano o le riparazioni che facevano a mano spero con questo video di avervi un pochino riportato diciamo al cucito di una volta oggi è vero che siamo più fortunate perché a livello di tecnologia abbiamo molte più possibilità rispetto a tantissimi anni fa addirittura più di un secolo fa però se amate con tutte voi stesse il cucito sicuramente amate anche le cuciture a mano e le rifinitura a mano richiedono più tempo però sono rilassanti e secondo me sono una soddisfazione pazzesca vi ho detto all'inizio del video che questa gonna non avrebbe fatto non avrebbe avuto cuciture nessuna cuciture evidente sul dritto quindi anche l'orlo sul fondo lo faremo a mano con dei punti invisibili in punto invisibile mi raccomando è importantissimo andare a prendere con l'ago solo un filo del tessuto ma proprio solo uno la risposta alla domanda che mi state per fare è sì sarebbe stato più comodo fare direttamente l'orlo prima di occuparci della fodera e prima di applicare la fodera comunque va bene lo stesso per comodità voi effettivamente fatelo prima che forse è un pochino più comodo ecco ci rimane la chiusura del cinturino io in questo momento non vado a realizzare l'asola e a mettere il bottone perché tra i mila mila bottoni che ho non ho trovato uno che mi piace quindi devo procurarmi un bottone che mi piaccia con questa gonna perché bianco troppo forte non avevo il colore giusto insomma comunque non vi preoccupate perché il bottone l'asola andrà realizzata a distanza di circa mezzo centimetro un centimetro dal bordo dovrà essere in orizzontale e chiaramente la misura dell'asola dipenderà dal bottone che andate ad applicare sul mio canale youtube comunque trovate un video tutorial ve lo lascio linkato qua sotto dove spiego passo passo come si realizzano le asole adesso la stilo per bene e poi vi faccio vedere il risultato finale allora questa è la parte davanti della nostra gonna come vedete le pens sono belle piatte vi faccio vedere anche che bello l'effetto della del fondo che si stringe andando a realizzare comunque una gonna tubo e questa tralasciando il fatto che non c'è il bottone è la parte dietro guardate che bello lo spacco e come va a sormontare perfettamente la gonna ma non c'è modo migliore di farvela vedere a rovescio guardate come viene bella la rifinitura a mano dello spacco vedete che non si vede proprio la cucitura guardate i puntini dei fili piccoli piccoli non si vede proprio nulla e quindi questa è la rifinitura del nostro dietro della gonna e questa a parte il filo del microfono che pensola è la mia gonna indossata che forse avrei potuto tenere un pochino più stretta sono comunque molto contenta del risultato e di come sia venuta spero tantissimo che questi tre video messi insieme possono essere per voi un piccolo corso sulla confezione della gonna su misura e che dire spero di ritrovarvi tutte e tutti al prossimo progetto quale sarà il prossimo progetto non lo so ancora però ho qualche idea come sempre ci vediamo prestissimo ciao